Incidente stradale stamattina in Viale delle Fosse erano le 8 un quarto quando una 38enne è stata investita sulle strisce pedonali mentre transitava da via Jacopo da Ponte in direzione Vecchio Ospedale. Un'auto condotta da una mamma con un piccolo a bordo in transito da Rosa verso Pove ha investito la 38enne intervenuti velocissimi dopo cinque minuti gli agenti della polizia locale che hanno deviato il traffico prestato i primissimi soccorsi in quello che è un punto nevralgico della viabilità cittadina. Da stabilire adesso la dinamica dei fatti quel che si sa è che da parte di una delle due donne non vi è stata la giusta osservanza dei segnali semaforici. Sul posto anche i sanitari del suo M118 che hanno trasportato la 38enne a San Bassiano per lei contusioni varie.